Ho pensato che la mia vita è un cerchio. Giro, giro e ritorno sempre lì. E mica sempre so cosa fare. Però i cerchi mi sono piaciuti sempre, fino a bambino. Sì. Perché sono tondi, perché non hanno spigoli e non hanno direzione. Sono cerchi, le ruote della bicicletta, il lecca-lecca che vendono alla fiera, gli obiettivi, gli occhiali della mia vecchia maestra Adelma e anche i disegni sulle mie untande. Anselmo! Sbrigati dai, che facciamo tardi a scuola. Spegni! Cinque minuti, che finisce il programma. Va bene, due minuti, vestiti. Però i miei cerchi preferiti sono quelli colorati. Mi piacciono il rosso, il turchese, il blu, il verde, il marrone, il nero. Invece un colore che proprio non sopporto è il giallo. Sono gialli, i limoni, la casa del vecchio Gebedia... Maledetti! La pipì... E infatti io mi siedo sempre sulla tazza così non la guardo. I cinesi... Ah, è il pulmino della scuola.